Buonasera a tutti di Doyle, benvenuto al TG7 Basilicata, siamo alla nostra edizione serale. Partiamo come sempre da una notizia di cronaca che riguarda un fatto molto spiacevole, un arresto per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Questo è quanto avvenuto ad opera dei carabinieri della stazione di Vaglio di Basilicata che hanno arrestato in fragranza di reato un uomo di 49 anni residente a Filiano. Nella serata di giovedì scorso era giunta infatti una chiamata al 112 dove era stata segnalata l'aggressione subita in casa da un minorenne ad opera del padre. Immediatamente è intervenuto un equipaggio della locale stazione carabinieri presso il domicilio dell'uomo. I militari appena giunti sul posto per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto hanno trovato in casa la madre e il figlio di 9 anni attraverso i quali hanno appreso dei maltrattamenti e delle aggressioni che entrambi da tempo starebbero subendo ad opera dell'ex marito. L'ultimo episodio che ha visto l'intervento dei carabinieri è quando l'ex marito ha minacciato e percosso il figlio procurando gli lesioni giudicate guaribili dai sanitari in alcuni giorni. I militari pertanto constatato l'accaduto hanno prontamente avviato le ricerche dell'aggressore che hanno rintracciato nel giro di poco tempo verso la sua abitazione di Filiano. Dopo gli accertamenti l'uomo è stato arrestato e associato alla carcere di Potenza. I vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza con il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria stamattina sono intervenuti per un incendio di un'autovettura sulla A2 Salerno-Reggio Calabria al chilometro 129 100 direzione sud del comune di Lago Negro. I vigili del fuoco allertati dal centro operativo autostradale giunti sul posto in prossimità dell'uscita autostradale di Lago Negro Nord hanno trovato l'autovettura tipo Tiguan completamente avvolta dalle fiamme. Oltre l'incendio dell'auto sono stati impegnati anche allo spegnimento di circa mille metri quadri di sterpaia adiacente all'autostrada. Nel corso delle operazioni di spegnimento il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso. I vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e sul posto ovviamente erano presenti anche i carabinieri e l'ANAS. E in programma statriano di Lucania il 4 e 5 agosto una nuova tappa di Faccio Storie, una rassegna di teatro per l'infanzia e la gioventù che porta in giro quattro spettacoli originali prodotti dalle compagnie teatrali lucane riunite nel network Rete Teatro 41. Nella cornice dell'anfiteatro Porticelle sono previsti due appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie. Mercoledì 4 agosto con Stupori il primo studio di compagnia teatrale L'Albero, EAS di Oltredanza e Bestiario Materano del Centro Arti Integrate. giovedì 5 agosto con il diario di Sofia di Gammalacca Teatro e Into the Border, studio di compagnia teatrale Petra e Basilicata, 1799 città delle Centoscale Festival. Io come ogni sera vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto, ci risentiamo qui al TG7 Basilicata domani.